Siamo al momento della sfilata, siamo con il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo. Sindaco, una manifestazione che in una giornata dove Sorrento, come è giusto che sia, è popolatissima di turisti, un evento nell'evento, in quanto già la città che lei amministra ha la fortuna di essere un evento solo quando la si viene a visitare. Sorrento oggi è palcoscenico di una notte d'arte, l'arte non poteva escludere il museo Correale, è come viverlo nel miglior modo con una sfilata di moda, l'arte che è quella museale con l'arte degli stilisti che faranno vedere le loro preziosità. Sorrento oggi è protagonista in questo tour che vede tutta la città protagonista. Ecco, è importante proprio questo, Sorrento conosciamo le bellezze, di Sorrento conosciamo anche i prodotti tipici, però Sorrento è anche arte e questo evento racconta proprio questo. Sì, Sorrento è principalmente cultura, Sorrento è cresciuta col Grand Tour, è diventata famosa per i grandi visitatori, i grandi pittori, i grandi scrittori che hanno parlato della nostra città e pertanto è importante, ogni giorno spesso bisogna parlare anche di eventi culturali e non solo di spettacoli televisivi o spettacoli in genere. Il plauso va proprio a lei e alla sua amministrazione proprio per questo. Io prima, ecco, fra le mie considerazioni dicevo ci sono dei comuni che stentano a creare eventi, e chi invece come Sorrento, che magari non ne ha bisogno perché è un biglietto da visita mondiale, invece si dà da fare anche in questo senso e questo vuol dire che lei e la sua amministrazione siete attenti a 360 gradi. Sì, io credo sempre dal primo momento che Sorrento andava promossa in tutti i modi, nelle attività culturali principalmente, ma anche in quelle popolari, perché Sorrento è un po' tutto, rappresenta il turismo italiano e campania in particolare nel mondo e deve essere all'avanguardia e si deve sempre innovare anche nella promozione, principalmente quella culturale.